Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, insieme all'assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, ha incontrato in cittadella regionale gli amministratori di Baker & Ex, azienda di tecnologia al servizio delle energie e dell'industria che progetta, produce e fornisce soluzioni tecnologiche all'avanguardia e che ha annunciato nei giorni scorsi un piano per potenziali nuovi investimenti in Calabria, fino a 60 milioni di euro nei prossimi anni. L'incontro è servito per illustrare in maniera più dettagliata la proposta industriale di Baker & Ex, che prevede da un lato la realizzazione di un nuovo insediamento industriale presso il porto di Corigliano Calabro, che servirà alla realizzazione delle strutture dei moduli esportati in tutto il mondo per la produzione di energia, la compressione dei gas e a supporto di soluzioni per la transizione energetica, ma anche di un piano triennale di espansione per il proprio sito di Vibo Valencia. Un sito che, come è stato sottolineato, è nato circa 60 anni fa e in cui si prevede non solo un ampliamento della produzione della componentistica, ma anche la nascita di un nuovo centro di ricerca e sviluppo. Le parti si sono aggiornate ad un prossimo incontro, da tenersi nelle prossime settimane in cui verrà presentato anche ai sindacati il piano industriale di Baker & Ex in Calabria.